Oggi parliamo del peccato. Cosa è il peccato? La natura corrotta dell'uomo e alcune cose che bisogna fare per contrastare il peccato. Il peccato è quell'azione o quel mancamento della persona che una persona compie oppure che non fa e non arriva quindi a destinazione, non riesce a raggiungere la meta, non riesce a raggiungere il porto di destinazione che doveva raggiungere. Il peccato è praticamente un fallimento, è una caduta, un qualcosa che interrompe la comunione con Dio. Il peccato è qualcosa purtroppo che interrompe la comunione con Dio ci allontana da Dio, allontana l'uomo da Dio e quindi dobbiamo conoscere, conoscere anche questo aspetto, dobbiamo sapere cos'è, dobbiamo conoscere noi stessi, dobbiamo esaminare noi stessi, individuare le nostre debolezze perché il peccato si infilerà sempre dove sono le nostre debolezze, il peccato ci farà cadere sfruttando le nostre debolezze. Quindi dobbiamo conoscere prima di tutto tutte queste cose affinché poi cerchiamo un rimedio che la stessa scrittura ci dà affinché possiamo contrapporci al peccato perché questa lotta ci sarà sempre, ci accompagnerà sempre per tutta la nostra vita fino a quando non avremo un corpo glorioso, fino a quando non saremo, o meglio, fino a quando non abbandoneremo questo corpo di carne e sangue, fino a quando non abbandoneremo questo corpo, saremo sempre immersi in questa lotta contro il peccato. Intanto iniziamo a vedere come le scritture definiscono il peccato. Adesso andiamo a leggere quello che ha scritto l'Apostolo Giovanni. L'Apostolo Giovanni ha scritto queste parole. Prima Epistola di Giovanni al capitolo 3 al versetto 4 leggiamo, leggiamo queste parole. Chi fa il peccato commette una violazione della legge e il peccato è la violazione della legge. Quindi per peccato deve esserci un comandamento, deve esserci una legge, deve esserci qualcosa che dice, qualcosa che proviene da Dio, che dice questo non deve essere fatto. Questo lo stabilisce il Dio, l'ha stabilito il Dio, ci sono determinate cose che non si devono fare, che sono, molte di queste cose sono appunto scritte, sono scritte appunto nella sua parola. Quando noi infrangiamo, trasgrediamo i suoi comandamenti, noi commettiamo il peccato e il peccato poi provoca la morte spirituale. Il peccato ci allontana da Dio, il peccato interrompe una relazione di comunione con Dio. Quindi è importante conoscere queste cose, importantissime perché meno ci allontaniamo a causa del peccato da Dio, meno ci allontaniamo e più saremo in comunione con Dio e più vivremo una vita pacifica, felice e serena. Quindi dobbiamo conoscere tutto ciò che riguarda il peccato affinché ci possiamo contrapporre con tutte le nostre forze al peccato. Anche Giacomo, anche l'Apostolo Giacomo definisce qualcosa riguardo al peccato. L'Apostolo Giacomo scrive queste parole. Al capitolo 4, al capitolo 4, al versetto 17 dice Colui dunque che sa fare il bene e non lo fa commette peccato. Quindi vedete, mentre l'Apostolo Giovanni ci ha detto che il peccato è la violazione della legge, Giacomo, che quindi la violazione della legge dice se tu fai questo che non devi fare commetti peccato. Giacomo invece dice se tu sai fare il bene e non lo fai commetti peccato. Lo devi? Se tu sai che certe cose si devono fare, se tu sai che certe cose le devi fare, che devi perseverare tutti i giorni nella preghiera, che devi leggere le scritture tutti i giorni, che devi aiutare gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, che devi visitarli, che devi aiutare i poveri, che devi fare tante cose e non le fai, commetti peccato, stai peccando davanti a Dio. Quindi è importante sapere che ci sono delle cose scritte che non dobbiamo fare e ci sono delle cose scritte che dobbiamo invece fare, perché altrimenti se prendiamo solo le parole di Giovanni e dice che è la violazione della legge, allora uno dice io non faccio queste cose e sono a posto. E no, devi farne tante altre, non solo tu non devi fare determinate cose, ma anche tu devi farne delle altre. Quindi dobbiamo abbondare anche nelle buone opere, secondo quanto è scritto nella parola, perché noi dobbiamo studiare le Sacre Scritture e dobbiamo essere anche faccitori, non solo studiarle e leggerle, leggere le belle parole che ci sono scritte, ma poi dobbiamo anche metterle in pratica. Questo è importante, dobbiamo essere studiosi della parola e faccitori della parola di Dio, non solo uditori, ma anche che mettiamo in pratica la parola di Dio. Parlando del peccato, è chiaro che dobbiamo partire dal primo peccato. Lo esaminiamo e vediamo che cosa è successo. Il primo peccato lo troviamo descritto al capitolo 3 di Genesi. La situazione era questa, c'erano Adam ed Eva che erano nel giardino dell'Eden, badate bene, non conoscevano, non avevano ancora la conoscenza del bene e del male. E accadde questo. Al capitolo 3 di Genesi leggiamo. Or il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi, e l'Eterno Dio aveva fatti. Ed esso disse alla donna, come? Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare. Ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, il Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna, no, non morrete affatto, ma il Dio sa che nel giorno che ne mangerete gli occhi vostri si apriranno, e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male. E la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Prese del frutto ne mangiò e ne dette anche al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Allora si apersero gli occhi ed ambedue si accorsero che erano ignudi, e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Dopo il Dio parla sia col serpente che con Adamo e con Eva, insomma, gli fa sapere quale sarà la loro punizione, ma la cosa più grande che è successo loro è quello che Dio aveva comandato. Il Dio aveva comandato questo, al capitolo 2, versetto 17, aveva detto, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Cioè, Adamo ed Eva appena furono creati erano senza peccato, cioè in loro non abitava il peccato. Il Dio diede questo comandamento per la tentazione, in questo caso esterna, perché in loro non abitava il peccato. In quel momento, quando furono tentati dal diavolo, dentro di loro non c'era una natura peccaminosa, non c'era il peccato, non conoscevano, non sapevano cosa era il peccato. C'era però un comandamento. Ecco, da quel comandamento, praticamente, avendolo infranto, avendo trasgredito quel comandamento, hanno conosciuto cosa era il peccato, hanno conosciuto cosa era il male, hanno conosciuto cosa è la morte spirituale. Perché come Dio aveva promesso, se avrebbero mangiato di quel frutto, sarebbero morti, ma non morti fisicamente, perché poi sono continuati a vivere fisicamente. Sono morti spiritualmente, nella loro anima, nella loro spirito, sono morti, sono diventati morti spiritualmente. E questo è successo ad Adamo ed Eva. Però, a questo peccato originale, a questo peccato, a questa azione di trasgressione della prima donna, del primo uomo, purtroppo, questa trasgressione ha dato origine alla morte di tutti gli uomini discendenti da Adamo ed Eva. Cioè, dal peccato, quindi dalla conseguente morte spirituale di Adamo ed Eva, c'è stata la morte spirituale di tutti i discendenti che provengono da Adamo ed Eva. E questo ce lo fa sapere in diversi passi. Ad esempio, l'Apostolo Paolo, al capitolo 5, ci dice queste parole. L'Apostolo Paolo, ai Romani, al capitolo 5, al versetto 12 dice queste parole. Perciò, siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata la morte. E in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Tutti, quindi, siccome ha peccato Adamo, ha peccato Eva, tutti gli uomini sono discendenti di Adamo e di Eva, avendo peccato i primi, il primo, hanno peccato tutti, praticamente. Questa è la legge, questa è la natura del peccato. Sono tutti morti spiritualmente, i discendenti di Adamo. E siccome gli uomini sono tutti discendenti di Adamo, sono tutti morti spiritualmente. Infatti, da Adamo ed Eva la morte regna su tutte le generazioni. C'è sempre stata la malattia e la morte che sono conseguenze del peccato, a partire appunto dal peccato di Adamo ed Eva. In questa maniera, questo effetto lo ritroviamo anche nel secondo comandamento. Voi vi ricordate che sta scritto che Dio, nel secondo comandamento, è scritto che Dio avrebbe punito i peccatori fino alla seconda e alla terza generazione. Quindi c'è sempre stata in Dio la volontà di punire i peccati dei padri sui figlioli. E così è avvenuto dall'inizio. Dal peccato di Adamo e dal peccato di Eva, il loro peccato praticamente ha fatto morire tutte le generazioni che sono venute dopo di loro. Ed è per questo che l'uomo, essendo morto spiritualmente, perché il peccato ha ucciso, è diventato universale praticamente. Essendo il peccato passato da Adamo a tutti i suoi discendenti, ha ucciso il suo peccato tutte le generazioni che sono venute dopo di lui. Quindi questa morte spirituale che regna praticamente in tutte le persone non permettono alle persone di piacere a Dio. Quando non si si è rigenerati spiritualmente, quando non si diventa figlioli di Dio, si è anche soltanto per essere discendenti di Adamo, si è peccatori. Perché la natura e proprio dentro l'uomo vige, regna la natura sua del peccato, peccaminosa. Quella conseguenza di Adamo è insita nella natura di tutti gli uomini, indistintamente. Non è che c'è un uomo buono e un uomo cattivo. La scrittura dice che tutti hanno peccato e tutti sono privi della gloria di Dio, tutti gli uomini. Quindi cosa è successo dopo di ciò? Di che cosa c'è bisogno per essere salvati? Perché l'uomo è incapace, avendo una natura peccaminosa, una natura in cui il peccato governa e regna, essendo morti spiritualmente, non possono così piacere a Dio. Allora il Signore cosa ha stabilito? Ha stabilito che per mezzo della fede, per l'opera che lo Spirito Santo compie dentro l'uomo, lo rigenera spiritualmente. Cioè il Dio opera nell'uomo per salvarlo, per farlo diventare figliolo di Dio, opera una rigenerazione spirituale. Lo salva, lo Spirito Santo opera dentro di lui, entra dentro di lui e lo rigenera spiritualmente. Perché era morto? Perché sono tutti morti? Anche noi, prima di conoscere il Signore, prima di essere rigenerati, noi eravamo figlioli di Dira come tutti gli altri. Noi eravamo morti spiritualmente. Noi siamo stati salvati per grazia, mediante la fede nel sacrificio che ha compiuto Cristo Gesù. Ma questa fede ci è venuta, è stata messa dentro il nostro cuore dallo Spirito Santo quando ci ha rigenerati, quando lui ci ha dentro presi e immersi, immersi nel corpo di Cristo. Ci ha fatto diventare parte, membri del corpo di Cristo, con la sua rigenerazione, con l'opera che lui ha compiuto. Ed è per questo che diciamo che la salvezza è per grazia, che la salvezza ci è stata donata, che la salvezza non ce la possiamo potuta meritare. Perché? Perché è Dio che la compiuta in noi. Egli, prima della fondazione del mondo, ha scritto dei nomi sul libro della vita. E quelle persone che lui ha scritto nel libro della vita, le ha avvenuto il tempo che lui ha stabilito, le ha rigenerate spiritualmente. Li ha fatte diventare figlioli di Dio, liberandoli dalla conseguenza del peccato. Siamo stati, noi e tutti quelli che sono nati di nuovo, sono stati liberati, sono stati redenti. Che vuol dire che sono stati liberati? Siamo stati liberati dalla conseguenza del peccato. Perché? Perché, guardate bene, anche se, anche se, c'è da dire questo, questa è la salvezza di Dio, ma c'è da dire che la natura comunque corrotta, la natura corrotta rimane ancora dentro l'uomo, anche se è credente. È chiaro che è diverso, perché poi noi abita lo spirito di Dio. Dal momento in cui si è rinati di nuovo, abita nell'uomo lo spirito di Dio. Quindi la forza è maggiore. Per opporsi al peccato, per opporsi alla natura corrotta dell'uomo, la forza è diversa, la guida è diversa, è chiaro. Quindi possiamo dire che, mentre eravamo morti spiritualmente, noi sguazzavamo nel peccato le concupiscenze della nostra carne dentro di noi, vivevamo per servire il peccato, ed eravamo morti, eravamo morti. Mentre adesso, purtroppo, la nostra natura, che rimane comunque legata alla carne, alla nostra carne, la natura peccaminosa, la natura corrotta dell'uomo, rimane attaccata alla carne, perché noi siamo stati rigenerati spiritualmente, e siamo in attesa di un corpo glorioso, dove non abita il peccato. Quindi il corpo ancora glorioso, noi non l'abbiamo ricevuto. Non siamo ancora stati liberati da questo corpo di peccato, da questo corpo debole. Quindi, fino a quando saremo in questo corpo, noi ci troveremo sempre a combattere contro il peccato. Dobbiamo resistere, combattere, opporci ad ogni cosa che ci allontana, perché il peccato cosa fa? Ci allontana da Dio, ci allontana dalla santità, ci allontana dalla comunione con Dio. Quindi, fino a quando saremo in questa carne, dobbiamo armarci di questo pensiero, che è questo. Dobbiamo combattere continuamente contro il peccato. Dobbiamo resistere, perché purtroppo la nostra natura è ancora quella tendente al peccato. E se noi lo lasciamo andare, il nostro corpo, il nostro peccato, la nostra natura corrotta, la lasciamo dovinare, noi torneremo peggio di quello che eravamo prima. Torneremo peggio. Ecco quindi che dobbiamo compiere un'azione di autocontrollo, di moderazione nella soddisfazione dei nostri bisogni. Se prima ci ubriacavamo, adesso beviamo un goccino di vino, non è che non ne dobbiamo bere, ma non ne beviamo più litri, come se ne beveva prima, o bicchieri, due, tre bicchieri, se ne beve mezzo bicchiere, per quello che ti serve, ma moderatamente, capite? Quindi dobbiamo autocontrollarci, opporci al peccato, opporci continuamente al peccato. Quindi dopo questa rigenerazione abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Questo ci aiuta nel vivere la nostra vita, nell'opporci al peccato, però ancora il nostro corpo non è stato liberato dalla corruzione del peccato, dalla corruzione che è dentro la carne e dentro l'uomo. Quindi il peccato è sempre lì, che ci sta spiando, come c'è scritto in Genesi, dopo andremo a vedere, ci sta spiando perché lui ci vuole dominare, ci vuole far cadere continuamente. Però badate bene, vi sto dicendo che la natura peccaminosa è dentro di noi. Il maligno agisce all'esterno facendo leva, facendo leva sulle nostre debolezze e sulla nostra natura peccaminosa. Però non è che è il maligno che è colpevole del nostro peccato, perché il peccato alberga dentro di noi già, è pronto a scattare. E ora vediamo come ne parla l'Apostolo Giacomo della tentazione, di quell'azione tenuto conto che l'uomo è corrotto, tenuto conto che l'uomo è corrotto nella sua carne, la sua natura rimane comunque corrotta, non ancora liberato nel corpo, anche i credenti non sono ancora liberati da questo corpo di morte, avviene un combattimento continuo. E Giacomo lo rappresenta con queste parole che andiamo a vedere. Prendiamo Giacomo, capitolo 1, versetto 13. Nessuno quando è tentato dica, io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, né egli stesso tenta al culo, ma ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo adesca. Poi la concupiscenza, avendo concepito, partorisce il peccato, e il peccato quando è compiuto produce la morte. Vedete cosa dice Giacomo? Giacomo ci fa sapere che purtroppo c'è nella nostra carne, dovuta alla nostra debolezza, la debolezza della natura corrotta dell'uomo, c'è continuamente quest'azione. Cioè i desideri della nostra carne, quelli proprio che tendono al peccato, cosa fanno? Tentano, tentano l'uomo spirituale che è in noi. Cioè in noi praticamente è come se ci sono due nature, quella che vuole servire il Signore, seguire il Signore, e quella invece che vuole farci cadere, ci vuole far allontanare dalla santità. Infatti la santità, il peccato, è il contrario, peccato, contaminazione, è il contrario di santità. Nella santità praticamente cosa abbiamo? Un allontanamento della persona dal tutto ciò che lo contamina, da tutte le cose di questo mondo che lo possono rallentare nel cammino, lo possono bloccare, lo possono far cadere. Il peccato invece, il peccato cosa fa? Ti allontana dalla santità, quindi ti riavvicina alle cose del mondo, ti riavvicina a tutte quelle cose che ti uccidono spiritualmente, che ti fanno peccare e ti allontanano poi dalla comunione, dalla comunione col Signore. Lo stesso apostolo Paolo diceva io faccio quello che non voglio fare, cioè riconosco che la legge è giusta, no? Nell'Epistola ai Romani anche lo stesso apostolo Paolo riconosce che era immerso in questa situazione, riconosceva la sua natura corrotta, che purtroppo lo faceva peccare e dall'altra lui, la sua natura invece spirituale diceva che la legge di Dio è giusta, è giusto quando Dio dice che gli uomini sono tutti peccatori, è giusto quando dice che io devo chiedere perdono a Dio per tutti i miei peccati, perché realmente li ho commessi. Quindi Paolo sapeva di trovarsi in questa situazione e si sarebbe trovato sin alla fine, quindi ha dovuto anche lui combattere come tutti gli altri credenti, combattere, opporsi, resistere, lottare contro il peccato. Il peccato compie quest'azione, vedete Giacomo è importantissimo in questo versetto perché ci fa capire qual è il nostro stato continuo. Noi veniamo tentati dalla nostra concupiscenza, qui dice, ma ognuno è tentato dalla propria concupiscenza. Uno dice, il diavolo ci tenta, è vero, il diavolo ci tenta, infatti il diavolo ha tentato Gesù, il diavolo ha tentato Adamo ed Eva e sono caduti, il diavolo ha tentato Eva ed è caduta. È vero, il diavolo può compiere delle tentazioni, cioè compie quell'azione, quel tentativo di attrarre la persona, di rompere quell'equilibrio, quella comunione con Dio, quel legame che c'è con Dio, cercare di allontanarlo dalla comunione con Dio per farlo cadere e farlo allontanare dal Signore. Quando il peccato poi è compiuto ecco che produce la morte, produce un danno spirituale, produce infatti quando tutti, anche i credenti, si saranno trovati in qualche momento a dover peccare. Nel momento in cui tu hai peccato ti senti spiritualmente male, hai uno stato d'animo che è ansioso, sai che ti meriti la punizione di Dio perché chi pecca poi deve aspettarsi la punizione di Dio, ma la cosa che deve fare il credente, qualora dovesse cadere, qualora accada, deve andare a Dio e chiedere perdono, chiedere pietà per i suoi peccati. Il Dio che è misericordioso, il Dio che è misericordioso perdona i peccati di coloro che vanno a lui con un cuore sincero. Comunque noi ci stiamo concentrando sull'azione che compie il peccato, sfruttando la natura peccaminosa e la natura corrotta dell'uomo. Quindi ognuno è tentato dalla propria. Ecco, voglio sottolineare questo perché ci sono quelli che danno la colpa tutta al diavolo. Ah, il diavolo che mi ha tentato. Il diavolo, sì, il diavolo può tentarci, ma fa stimolo, stimola una corruzione che è già dentro di noi. E lo vediamo. Quando ci sarà il millennio, quando il millennio verrà, che il diavolo sarà incatenato nell'abisso, ci saranno ancora quelli che moriranno a cagione del peccato. E questa è una conferma, perché non ci sarà più il tentatore, non ci sarà più il diavolo che opererà sulla terra, quando ci sarà il millennio, i mille anni in cui Gesù regnerà su questa terra insieme ai santi. Non ci sarà più il tentatore, ma ci sarà ancora il peccato, ci sarà ancora chi cadrà e chi morirà a cagione del peccato. Sarà molto meno, questo è vero, però ci sarà sempre chi peccherà. E questo perché? Perché la natura nell'uomo, perché è la natura dell'uomo che è corrotta. Fino a quando noi non saremo liberati da questo corpo, praticamente saremo sempre soggetti a peccare. C'è sempre questa concupiscenza dentro l'uomo che ci porta a peccare. E questa noi ci dobbiamo opporre, ci dobbiamo opporre, perché non è che deve essere una giustificazione il fatto che il peccato alberga dentro di noi e quindi io non ci posso fare niente. No, le cose non stanno così. Noi lo stiamo dicendo, la scrittura ce lo insegna, la scrittura ce lo dice affinché noi predisponiamo, ci predisponiamo alla battaglia, alla guerra, a opporci a tutto quello che ci vuole allontanare dalla comunione con Dio. Quindi non siamo giustificati dal fatto che la natura dentro di noi è corrotta e quindi possiamo fare quello che vogliamo. No, non stanno così le cose. Giacomo dice ancora, è tentata la propria concupiscenza. Che cosa fa questa concupiscenza? Lo attrae e lo adesca, vedete, usa, lo adesca. Cioè dentro di noi, ognuno di noi ha delle debolezze che conosce anche il diavolo, anche il nemico delle anime nostre lo conosce. Quindi quando è lui a tentare ci tenta cercando di farci cadere. Dove sono appunto i nostri punti deboli? La nostra concupiscenza pure ci conosce. È dentro di noi che scalpita, che vuole uscire, che vuole dominare la nostra vita. E anche la concupiscenza fa leva sulle nostre debolezze. È come se si mettesse un'esca, no? Come se si getta un'esca e si aspetta, si aspetta che il pesce abbocchi. Quindi avviene proprio questo. Cioè noi siamo, il nostro uomo spirituale praticamente è cacciato e viene continuamente ricercato per essere mangiato, per essere distrutto, per farlo cadere, per allontanarlo da Dio. Quindi è questa la nostra situazione. L'attrazione, che cosa avviene? Cioè è un allontanamento dalla luce, dalla santità, dalla giustizia. Vieni attratto, quindi vieni un po' distratto da quello che sono i tuoi doveri, da quello che tu devi fare e su cui ti devi concentrare. La concupiscenza cosa fa? I desideri, le passioni carnali ti attraggono, quindi ti distraggono da quello che tu dovevi fare. Una volta che sei distratto, che ti sei allontanato dalla fonte di giustizia, di verità e di santità, ti gettano l'amo. E se tu abbocchi, cosa succede? Succede che avviene questa unione con la concupiscenza che viene concepito il peccato. E dopo che il peccato è concepito, cosa partorisce? Qual è il frutto del peccato? Il frutto del peccato è la morte, fratelli. Il Dio non tiene il colpevole vero innocente, sappiatelo questo. Quindi chi sbaglia, chi pecca, si precipiti a Dio a chiedere misericordia e pietà? Perché se Dio gli concederà misericordia e pietà? Perché qui ci sono dei peccati e peccati, ci sono dei peccati che sono più leggeri di altri, però se uno si dà la fornicazione all'adulterio, all'omosessualità, a compiere peccati più gravi di altri, perché se uno fa un cattivo pensiero è un conto, ma se uno si dà a una vita peccaminosa molto più grave, è chiaro che dopo non rimarrà impunito. Sappiatelo questo, sappiatelo. È come se uno prendesse del fuoco sul proprio seno. Non pensi quel tale se prendi del fuoco, delle cose che ardono, dei pezzi di legno che stanno ardendo. Voi provate a prenderli con le mani e vedete se rimanete senza essere bruciati o se vi bruciate le mani. Mettetevi la braccia nel seno per vedere se vi bruciate oppure no nel vostro grembo. E così è col peccato. Sappiate che quando si pecca c'è una conseguenza ed è per questo che oggi siamo qui a parlare di questo affinché ci armiamo tutti quanti insieme e ci opponiamo e resistiamo al peccato. Qualora pecchiamo, andiamo al Signore per chiedere misericordia. È chiaro perché gli unici peccati che non possono essere perdonati, per il quale è inutile andare al Signore, sono la bestemmia contro lo Spirito Santo e il rinnegare Cristo. Il rinnegamento di Cristo è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Chi li commette quelli non hanno più, non possono avere remissione in eterno. Però badate bene, una volta detto questo significa anche per esclusione che tutti gli altri peccati senza alcuna limite possono essere perdonati. Certo, può scendere anche la punizione, attenzione, cioè non è che essere perdonati nel senso che puoi essere salvato, ma la punizione su questa terra tu puoi riceverla ugualmente. Davide non morì, Davide fu perdonato da Dio, è vero, ma la punizione la ricevete fu molto dura. Capite? Quindi andate a leggere tutto il racconto del peccato di Davide con Bathsheba e vedrete che Dio ha misericordia di lui e lo perdona, è vero, perché chiede perdono, ma ha subito comunque le punizioni. Quindi ci sono determinati peccati che se commessi portano gravi conseguenze, quindi sappiatelo questo. Quindi state attenti a quello che fate, stiamo attenti a quello che facciamo, perché io non è che sono escluso. Quindi abbiamo visto che la concupiscenza che fa parte della nostra natura corrotta che discende da Adamo ci provoca continuamente, ci tenta, cerca di farci cadere. E' un po' come abbiamo letto, no? Avviene come abbiamo letto prima in Genesi, quando il diavolo tenta Eva. Intanto cosa gli dice? no, non è vero. Vedete, quando il diavolo parla con Eva, la prima azione che fa il diavolo qual è? Come il Dio vi ha detto non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino, vedete, mette confusione. Ha cominciato a mettere confusione in Eva e ha iniziato un discorso. in quel caso Eva non aveva la concupiscenza dentro di lei, quindi il tentatore era esterno, va bene? Il tentatore era esclusivamente esterno. Ora, quello che il diavolo ha fatto con Eva è la concupiscenza dentro di noi che lo fa, però o esterno o interno, la battaglia c'è sempre, capite? Quindi per Eva è stata una tentazione che gli è venuta dall'esterno. A noi la concupiscenza ci attrae dall'interno, è proprio dentro di noi, non è lontano da noi, non è fuori da noi. Il maligno può fare leva sulla nostra concupiscenza, può anche tentarci il maligno, ma sempre cercando di sfruttare quella natura corrotta che è dentro di noi. Il principio comunque è sempre quello. Portare confusione, cioè noi abbiamo un determinato ordine, il primo attacco che compie la concupiscenza, che compie il diavolo, che compie chi vuole farci cadere, è mettere confusione. E, diciamo, separarci da quell'ordine di cose che noi conoscevamo. Ad esempio, Eva conosceva bene il comandamento, il diavolo ha parlato in maniera da mettergli confusione e lei ha dovuto rispondere. Poi il diavolo cosa dice ancora? Gli dice no, non morrete affatto. Vedete, si contrappone a quello che Dio comandò. Quindi state attenti fratelli, quando qualcuno parla contro i comandamenti di Dio, sta facendo l'opera del tentatore, sta facendo l'opera del diavolo. Se la scrittura dice che la donna deve pregare con il velo, se viene uno a dirvi no, ma la donna può pregare anche senza velo, ecco, e sta facendo la stessa opera che ha fatto il diavolo. Il diavolo ha detto il giorno che ne mangerete per certo morrete. Il diavolo qui cosa ha detto? Il Dio ha detto il giorno che ne mangerete, il giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Il diavolo cosa ha detto? No, non morrete affatto. Vedete, il contrario di quello che Dio ha comandato. Quindi bisogna intanto conoscere bene i comandamenti di Dio. Quando sentite qualcuno che parla al contrario, contro i comandamenti di Dio, ecco, già sapete che siete in questa lotta. Vi stanno attaccando, vi stanno gettando l'amo, voi vi stanno cercando di prendervi come si prendono i pesci. Non fatevi prendere, fratelli, attenetevi alle scritture, attenetevi saldamente alle sacre scritture che sono la verità, che provengono da Dio, che sono ispirate da Dio. Quelli che parlano contro la parola di Dio, quelli che parlano contro da chi sono? Sono dal diavolo, fratelli. Quelli che parlano contro la parola di Dio, contro i comandamenti di Dio, sono dal diavolo. Quindi li dovete riconoscere, voi vi dovete attenere a quello che dicono le scritture. E questa è l'azione, abbiamo visto, che ha fatto il diavolo, che ha messo confusione, ha attirato l'attenzione di Eva, l'ha attirata su qualcosa che lei magari non ci pensava neanche a mangiare quei frutti, mangiava tutti gli altri. Ma il diavolo cosa ha fatto? L'ha distratta dagli altri frutti per farla concentrare in quel frutto che l'avrebbe poi portata a peccare. Vedete? Quindi c'è questa attrazione, un distacco da quello che uno faceva per volontà di Dio, un distacco, un'attrazione per attirarla, adescarla e farla cadere, trasgredendo il comandamento di Dio. E questa è la conseguenza, il peccato è passato su tutti gli uomini, ha sbagliato, quindi vedete ci sono delle conseguenze, badate bene, quando si pecca ci sono delle conseguenze, quindi facciamo attenzione a quello che facciamo, perché in base al peccato che commettiamo ci sarà una conseguenza. E io questo ve lo voglio risparmiare. Ora vediamo, vediamo la scrittura cosa ci dice, ci esorta quindi la scrittura, una volta che abbiamo visto come opera il peccato, l'azione, la natura corrotta dell'uomo, vediamo cosa ci dice, cosa ci dice la scrittura. Come dobbiamo reagire? Ad esempio, rimanendo in Genesi al capitolo 4, dove si parla della storia di Caino e di Abele, dove offrirono un sacrificio a Dio e quel sacrificio di Abele fu gradito a Dio, mentre quello di Caino no, perché fu gradito quello di Abele e quello di Caino no? Non fu perché Caino offerse dei frutti della terra e Abele offrì degli animali, non fu per questo, come taluni dicono, ma la scrittura insegna che fu gradito il sacrificio che fece Abele semplicemente perché il sacrificio fu offerto con fede. Abele offrì il sacrificio con fede, mentre Caino no. E' questo il motivo che viene scritto nell'epistola agli ebrei, il motivo per il quale il sacrificio, l'offerta, l'offerta di Abele fu gradita e quella di Caino no. Caino non aveva fede, un cuore che non ha fede è un cuore malvagio, è un cuore malvagio, non è un cuore buono il cuore che non ha fede. Quindi Caino si trovava in questa situazione, non aveva fede, odiava, praticamente sentiva un'avversione verso Abele che era benedetto da Dio perché aveva offerto il sacrificio di animali con fede e quindi erano nemici. E la concupiscenza di, avendo un cuore malvagio, una natura corrotta che lui non ha, non voleva trattenere, non è riuscito a dominare, a trattenere, l'ha portato a uccidere suo fratello. Ma prima che uccidesse suo fratello, il Dio, sapendo quello che stava succedendo in lui, che nel suo cuore, nella sua anima, nel suo corpo si stavano agitando le forze e stava perdendo l'Eterno. Al capitolo 4 di Genesi, versetto 6 e 7, leggiamo queste parole che, E l'Eterno disse a Caino, perché sei tu irritato e perché hai il volto abbattuto? Se fai bene, non rialzerai tu il volto, ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta. I suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Vedete? Nella corruzione, nella corruzione della persona, nella corruzione della natura dell'uomo, avviene proprio questo. L'uomo è corrotto, quindi ha la natura corrotta, dopo il peccato di Adamo. Quindi cosa succede? Succede che il peccato è lì, è pronto, è alla porta, è pronto a scattare, è pronto a dominare la tua, è pronto a dominare quella persona. Lo sta spiando, il peccato lo stava spiando Caino, il peccato ci sta spiando a noi, è sempre pronto a partire per farci cadere. Ma l'Eterno, cosa gli ha detto a Caino? E questa parola vale anche per noi. Siccome tu sai che i desideri del peccato, che la concupiscenza della tua carne, che la tua natura corrotta è sempre pronta a scattare per farti cadere, cosa dobbiamo fare noi? Lo dobbiamo dominare. Dobbiamo mettere in atto tutte quelle azioni, anche preventive, per poter dominare il peccato, per poter dominare i desideri della carne che cercano di farci cadere del continuo. Ancora vediamo cosa dice l'Apostolo Paolo, sempre sulle esortazioni a combattere, a contrapporci al peccato. Dobbiamo andare in 1 Corinti 10,13. 1 Corinti 10,13. Qui Paolo sta scrivendo ai credenti. I credenti hanno un vantaggio nei confronti dei non credenti, di quelli che hanno un cuore totalmente malvagio. I credenti hanno dentro di loro lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio che ci aiuta a camminare, che ci dà quella forza in più per sopportare la mortificazione del nostro corpo, delle nostre azioni. Cioè lo Spirito Santo che è dentro coloro che hanno creduto, gli dà quella forza necessaria per opporsi al peccato. Quindi i credenti, vedete, i credenti, hanno questa forza in più, questo vantaggio per opporsi, per sopportare le tentazioni che si presentano, che si dovessero presentare nella vita, nella vita di ciascuno di noi. Si presentano le tentazioni, si presenta il peccato che può essere consumato, può essere commesso, la trasgressione dei comandamenti di Dio, ma noi ci dobbiamo opporre. Continuamente siamo sottoposti a questa lotta e noi dobbiamo continuamente combattere. Che siamo sottoposti a questa lotta, a questo combattimento, lo dice anche lo scrittore agli ebrei. Adesso dobbiamo andare al capitolo 12, al capitolo 12 di Ebrei, al versetto 4. La situazione degli ebrei era particolare, perché la situazione degli ebrei era questa, che siccome erano perseguitati, ma perseguitati a morte, allora stavano per cedere, alcuni avevano già ceduto, c'erano quelli che stavano cedendo e ritornavano ad osservare la legge di Mosè, rinnegando così la salvezza per fede. Ritornando ad osservare la legge di Mosè. L'epistola agli ebrei è uno scritto che viene dato agli ebrei per fortificarli, per sostenerli, per insegnare loro che avevano intrapreso un cammino per la fede di Cristo e non potevano più tornare indietro. Se sarebbero tornati indietro a osservare la legge di Mosè, avrebbero rinnegato Cristo. Quindi non dovevano assolutamente fare una tale cosa. Quindi, tra le diverse altre cose che lo scrittore agli ebrei dice agli ebrei, al versetto 4, qui di capitolo 12, versetto 4, lo scrittore agli ebrei dice queste parole. Voi non avete ancora resistito fino al sangue lottando contro il peccato e avete dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figlioli. Figliolo mio, non far poca stima della disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso. Ma io volevo centrare la vostra attenzione sul fatto che lo scrittore agli ebrei li esorta agli ebrei e gli fa sapere che non avevano ancora resistito fino al sangue lottando contro il peccato. Vedete quanto è furiosa questa battaglia che gli uomini devono compiere, che i credenti, i santi, devono combattere contro il peccato, devono lottare di continuo. lottare e resistere fino al sangue, anche al sacrificio della propria vita. Dobbiamo essere pronti a sacrificare anche la nostra vita. Tale è la battaglia che dobbiamo compiere contro il peccato. Perché? Richiede tutte le nostre forze, richiede concentrazione, richiede determinazione, dominio sul peccato. Cioè non dobbiamo rilassarci mai, dobbiamo sapere che questa è dentro di noi, c'è questa natura peccaminosa, dentro di noi c'è lo spirito di Dio dentro coloro che sono nati di nuovo, ma c'è anche una natura peccaminosa e queste due nature si scontrano, si vanno a scontrare. Quindi se vogliamo piacere a Dio dobbiamo fare un determinato percorso e combattere contro i piaceri della vita, contro tutte quelle cose che ci fanno attaccare, e ci fanno camminare come gli uomini del mondo. Se invece non ci interessa, a un certo punto della nostra vita non ci interessa più seguire il Signore, si cammina come cammina il mondo e dopo se ne avrà la conseguenza. Cioè, della via che noi scegliamo di seguire, poi ne pagheremo la conseguenza o ne riceveremo beneficio, fratelli e sorelle. Cioè, questo dobbiamo sapere cosa dobbiamo e vogliamo seguire. Lo dobbiamo prima sapere e dopo ci dobbiamo armare nella nostra mente, nel nostro cuore che dobbiamo fare determinate cose, dobbiamo combattere contro il peccato. Ora, abbiamo visto quindi che il credente il credente viene aiutato dallo Spirito di Dio nel contrapporsi al peccato. Ma ci sono anche altre cose che ci vengono, ci sovvengono in aiuto per combattere contro il peccato, per fortificarci. E questo dobbiamo andare in Matteo. Dobbiamo leggere nel Vangelo di Matteo al capitolo al capitolo 26 al capitolo 26 quando Gesù era nel Gezzemani e chiese a Pietro, Giacomo e Giovanni di venire con lui a pregare, di vegliare, di vegliare in preghiera con lui. Questi si addormentarono, insomma, non riuscirono e gli dice queste parole al versetto 40, quindi 26 40 del Vangelo di Matteo Gesù dice queste parole ai suoi discepoli, ai tre discepoli che si era preso con sé per intercedere con lui prima del suo arresto e prima del sacrificio che doveva compiere, la sofferenza che doveva patire. Poi venne ai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro così non siete stati capaci di vegliare Mecco un'ora sola? Cioè, neanche un'ora li prese per vegliare con lui per aiutarlo in preghiera a sopportare le sofferenze che doveva sopportare e non sono stati capaci di vegliare con lui neppure un'ora. E poi ancora dice queste parole vegliate ed orate affinché non cadiate in tentazione. Ben è lo spirito pronto ma la carne è debole. Vedete? Qui ancora Gesù ricorda a Pietro e agli altri discepoli che erano lì ai figlioli di Zebedeo ricorda che la carne è debole che la natura umana è debole che dentro la natura dell'uomo anche dei credenti abita il peccato c'è la concupiscenza che 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 si prepara sempre a dominare l'uomo. Allora Gesù gli dà una soluzione gli dice come contrapporsi a questa debolezza gli dice vegliate e pregate state svegli state concentrati sulle cose del Signore non solo vegliare per dire di notte in preghiera ma vegliare proprio per stare svegli perché se ci addormentiamo se ci addormentiamo perdiamo il collegamento con il Signore perdiamo la via non riusciamo più a seguire la via che dobbiamo seguire e saremo in balia dopo delle concupiscenze della carne delle passioni della carne dei desideri smisurati che sono dentro la carne che sfoceranno in tutta la loro forza e ci uccideranno spiritualmente perché ci faranno peccare e il peccato produce la morte il salario del peccato è la morte è la morte morte spirituale uno stato d'animo qui sulla terra uno stato d'animo di angoscia e di tribolazione non si starà più in pace e in tranquillità quindi sappiate fratelli che quando ci troveremo uno stato d'animo pieno di angoscia di tribolazione di depressione ci dobbiamo mettere a posto con Dio vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa e quindi ci dobbiamo mettere in preghiera per chiedere perdona al Signore esaminando noi stessi per eliminare tutto ciò che ci ha allontanati dalla comunione con Dio per opporsi quindi per Gesù con queste parole ci fa sapere che lo spirito è pronto è vero perché noi abbiamo una forza spirituale i credenti hanno una forza spirituale come abbiamo detto maggiore perché perché lo spirito di Dio abita dentro di noi abita dentro di noi egli ci guida egli ci ammaestra ci fa sapere ci fa sentire quello che va bene e quello che va male però però la carne rimane debole e per per riuscire a camminare spiritualmente Gesù dice che bisogna vegliare e pregare fratelli perseverare nella preghiera del continuo se noi continuamente preghiamo saremo sempre spirituali capite perché cosa succede se non siamo in comunione con Dio l'uomo spirituale si abbassa e si solleva l'uomo carnale si solleva l'uomo che ha dentro di noi la natura dell'uomo che ci ha che diciamo ci porta a peccare quindi Gesù ci dà questa soluzione di perseverare nella preghiera vegliate e pregate vegliate e pregate quindi una una delle cose che dobbiamo fare per contrapporci al peccato è quella di perseverare nella preghiera un'altra cosa invece che dobbiamo fare per contrapporci sempre al peccato è quella di studiare le sacre scritture come è scritto in Efesini in Efesini è scritto diciamo una cosa che la parola di Dio fa nel credente Efesini 5 25 mariti amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei a fin di santificarla dopo averla purificata con l'avacro dell'acqua mediante la parola a fin di far egli stesso comparire dinanzi a sé questa Chiesa gloriosa senza macchia senza ruga o cosa alcuna simile ma santa ed irreprensibile a fin di santificarla a fin di santificarla dopo averla purificata con l'avacro dell'acqua mediante la parola la parola compie un effetto purificatore nell'animo dell'uomo la parola di Dio insieme allo spirito di Dio come è scritto in Giovanni nel capitolo 3 è scritto che chi non nasce d'acqua e di spirito non può entrare nel regno dei cieli una delle opere che compie la parola appunto perché lì l'acqua rappresenta la parola come abbiamo letto qui in Efesini 5 25 26 la parola effettua un lavacro una pulizia una purificazione la parola di Dio quindi la parola di Dio effettua sì una purificazione dopo magari aver compiuto il peccato ma compie anche un'azione di prevenzione contro il peccato ci fa sapere cosa dobbiamo fare ci fa sapere ci mette in allarme per cosa dobbiamo a cosa dobbiamo stare attenti e cosa invece dobbiamo fare quindi se noi oltre che pregare dobbiamo attenerci dobbiamo studiare del continuo anche le Sacre Scritture perché con la conoscenza ci verranno nei momenti difficili della nostra vita della nostra vita nei momenti difficili ci soccorreranno i passi della scrittura come prima cosa verremo soccorsi quando abbiamo un problema ci verranno in mente dobbiamo fare qualcosa ci verranno in mente i passi della scrittura e questi ci guarderanno ci guarderanno dal cadere fratelli ci guarderanno dal cadere ci preserveranno dal cadere quindi ci dobbiamo attenere anche alle scritture dobbiamo dedicare del tempo per studiare le scritture perché fanno anche questo fa parte di quell'azione di questa lotta che dobbiamo compiere contro il peccato per tenerlo a bada per tenerlo sempre sottomesso soggiogato dominato anche lo studio delle Sacre Scritture un'altra cosa oltre a questo che ci viene in soccorso per aiutarci nel nostro combattimento contro il peccato è la comunione fraterna fratelli eh sì c'è anche la comunione fraterna perché quando siamo siamo in più fratelli ci esortiamo gli uni gli altri a camminare in santità a pregare di più a leggere di più quindi anche la comunione fraterna io parlo però di comunione fraterna non sto parlando di andare a sentire i cianciatori falsi dottori quelli che che vi sparano il veleno dal pulpito e vi uccidono ecco e uscite peggio dalla comunità di come siete entrati uscite più morti che vivi di come siete entrati io sto parlando di una comunione fraterna tra santi che vogliono santificarsi e vogliono seguire le vie del Signore eh questa comunione fraterna non tutte le comunioni di presunti fratelli sono valide ma sono valide solo quelle con quei fratelli con quella comunione fraterna tra fratelli che vogliono piacere a Dio perché purtroppo come è scritto le cattive compagnie corrompono i buoni costumi quindi se noi ci conduciamo frequentiamo fratelli corrotti diventiamo corrotti e questo non ci aiuta a camminare a camminare a combattere il peccato a lottare contro il peccato se noi frequentiamo gente che vive continuamente nel peccato capite non ci aiuta non ci aiuta anzi ci porta anche a noi a lasciare andare e a cadere e a cadere nel peccato invece c'è scritto che chi il compagno dei savi il compagno dei savi diventa savio quindi nella comunione fraterna nella comunione fraterna chi è savio diventa savio cioè frequentando delle persone sante si diventa santi frequentando delle persone che hanno sapienza si riceve sapienza si frequentano delle persone serie si riceve serietà si riceve ammaestramento si riceve esortazione si viene anche sgridati fratelli e sorelle talvolta si viene anche sgridati dai fratelli che vi amano non è che sempre vi diranno bravo hai fatto bene quando sbagli ti diranno no così non va bene ma lo si fa per il bene della tua anima lo si fa per il bene della tua anima non è che lo si fa perché c'è una superiorità dall'altra parte ci dobbiamo esortare e ammaestrare gli uni gli altri non è una cosa a senso unico perché se io sbaglio voi me lo dovete dire ma per il bene dell'anima mia non è che uno che un anziano o un pastore è intoccabile nessuno gli può dire niente no questo succede nelle sette che sono capi papi infallibili tutti quanti si chiamano presidenti o si chiama papa se si ritengono infallibili cioè sono la stessa stessa cosa per me quindi quindi non va bene siamo tutti fratelli c'è chi ha un incarico e chi ne ha altri ma alla fine siamo tutti fratelli capite quindi se sbaglia il pastore sbaglia l'anziano sbaglia l'apostolo il dottore o il profeta va ammonito severamente chi lo becca per primo lo deve ammonire lo deve ammonire severamente è così perché così si fa perché cosa dice la scrittura la scrittura dice se andiamo in ecclesiaste il libro della sapienza la sapienza di salomone ecclesiaste al capitolo 4 al versetto 9 leggiamo queste parole due valgono meglio di uno solo perché sono ben ricompensati della loro fatica poiché se l'uno cade l'altro lo rialza l'altro rialza il suo compagno vedete ma guai a colui che è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi in pratica se si è almeno due se uno cade l'altro lo rialza fratelli questa caduta è una caduta rappresentativa spirituale quindi se uno cade e l'altro lo ammonisce gli dice ravvediti e chiedi perdono a Dio non è per il suo male è perché lo sta rialzando lo sta rialzando è così che si rialza una persona dalle cadute dalle cadute vedete però si è in due poi dice ancora più avanti al versetto 12 dice e se uno tenta di sopraffare colui che è solo due gli terranno testa una corda a tre capi non si rompe così presto io ho provato non so se vi è capitato prende un filo non un filo per cucire di quelli fini non quelli grossi ecco se voi ne prendete uno e lo tirate si rompe va bene ma voi provate a legarne due assieme cosa succede si fa fatica se ne legate tre non si rompe così facilmente se ne legate dieci se ne legate venti di quei fili sottili tutti legati assieme formano una corda che non si rompe così facilmente e così deve essere la fratellanza così devono essere i fratelli uniti in un intreccio unico che si fa fatica a distinguere quale l'uno e quale l'altro in comunione con Dio naturalmente nella verità della parola non settari ma essendo strettamente legati dall'affetto dalla comunione fraterna dalla stessa voglia di santificarsi e di piacere a Dio questa unione fa sì che questi fratelli siano strettamente collegati assieme e non si spezzano così facilmente e se uno cade gli altri lo rialzano quindi quindi fratelli anche la comunione fraterna stare in mezzo ai fratelli è qualcosa che ci preserva che ci aiuta ci dà forza per combattere per combattere contro quelle concupiscenze che si agitano nella nostra natura nella nostra natura interiore nella nostra natura peccaminosa purtroppo corrotta perché purtroppo quella non ci lascerà mai fino a quando noi non abbandoneremo questo questo corpo e volevo volevo terminare terminare con il timore con il timore fare mio il timore di Paolo che Paolo diceva queste parole ha scritto queste parole dobbiamo andare alla seconda epistola di Corinto di Paolo ai Corinzi Paolo disse queste parole capitolo 11 di seconda Corinzi versetto 3 ma temo che come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia così le vostre menti siano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purità rispetto a Cristo questo è il timore di chi ama i fratelli questo è il mio timore nei vostri confronti e per questo timore che io ho voluto portarvi questo messaggio e vi porterò gli altri messaggi e vi esorterò e vi e vi sgriderò quando vi dovrò sgridare vi dovrò ammonire e vi dirò di fare determinate cose vi farò qualcosa perché il mio timore la mia paura è quella che venga qualcuno e vi porti via in chissà quale via perché se vi portassero in una via santa più santa di quella che stiamo presentando di un evangelo più puro più verace più biblico di quello che stiamo presentando a noi non ci sarebbero problemi ma se vi portano a peccare nel mondo fratelli questo ci dispiace questo mi dispiace e questo è il mio timore quello lì che i santi i miei cari fratelli per il quale stiamo faticando per il quale stiamo lavorando per il quale stiamo servendo per il quale stiamo pregando e combattendo tutti i giorni anche per i fratelli in preghiera siano portati via dalla semplicità della parola dalla verità della parola portando chissà quali promessi perché fratelli vedete nel seguire la parola alla fine è vero c'è una corona della vita c'è la vita eterna ma su questa vita su questa terra voi dovete passare sofferenze dovete soffrire dovete dovete accettare la persecuzione voi dovete rinunciare a molte cose questo vi devo presentare perché così è scritto e così devo presentarvi non è una vita di divertimenti qua qui non si balla non si canta non si fa discoteca non si va al mare in costume e non si fanno altre cose però la fine qual è la fine? la fine è la corona della vita è il regno celeste è la vita eterna fratelli noi a quello siamo concentrati a quello è là che noi vogliamo arrivare noi e portare tutti quelli che sono vicini a noi è là che lasciamo stare i balli in discoteca e tutte le sciocchezze le sciocchezze varie che purtroppo si danno a fare in determinate comunità per attirare chi? per attirare la gente nella concupiscenza carnale capite? fanno leva certi predicatori alle concupiscenze anziché stornarli dal peccato li fanno avvicinare a loro a loro non a Dio a loro sfruttando il peccato no venite potete ubriacarvi potete divertirvi potete stare maschi e femmine tutti insieme possiamo andare al mare possiamo bere possiamo ballare possiamo cantare fate come volete fate come volete basta che mi riempite il cestino delle offerte dicono taluni per il resto fate come volete allora sfruttano la concupiscenza dell'uomo anche dei credenti quelli che sono già credenti la sfruttano al loro vantaggio vedete sono loro i tentatori sono loro il diavolo tentatore praticamente che fanno cadere i fratelli e questo è il timore purtroppo il timore che i servitori di Dio hanno che possano i cari fratelli il greggio del Signore essere sedotto come fu sedotta Eva quindi non è impossibile che purtroppo lungo andare qualcuno si allontani perché è sedotto da qualche messaggio da qualche messaggio più dolce più più appetibile e meno e dove si parla di meno sacrificio di quanto noi presentiamo però allo stato attuale le cose stanno così fratelli e sorelle bisogna pregare bisogna tenersi alle scritture stare in comunione fraterna con i fratelli che vogliono santificarsi e si attengono alle sacre scritture perché così si combatte meglio contro quella natura peccaminosa che purtroppo alberga nei nostri cuori e questo era il messaggio che questa esortazione che volevo darvi oggi a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amén